E' già un successo il ritorno di Claudio Baioni ad Avellino. Dopo il trionfo dell'anno scorso, il celebre cantante romano torna al Teatro Gesualdo, dove si annuncia il tutto esaurito. La pre-vendita dei biglietti, cominciata ieri pomeriggio, ha fatto registrare il boom di prenotazioni. Restano infatti solo 200 biglietti ancora disponibili. La data che i fan devono segnare sul calendario è quella del 4 febbraio al Teatro di Avellino, in Piazza Castello. Dunque, dopo il successo di 12 note solo, Claudio Baioni da novembre tornerà dal vivo con nuove date live nei teatri lirici e di tradizione d'Italia. 12 note sole bis. Vedrà nuovamente Baioni, premio Tenco 2022, protagonista sul palco, voce, pianoforte e altri strumenti con le composizioni più preziose del suo repertorio. Nelle scorse settimane il sindaco aveva annunciato grandi sorprese per la nuova stagione teatrale, annunciando i primi volti e titoli degli spettacoli in programma. Il sindaco fessa tramite Facebook, aveva annunciato Stefano Bollani, Sergio Castellitto, Umberto Tozzi, Gris, Roberto Vecchioni e Checco Zalone, senza alcun accenno a Claudio Baioni, il quale sulla sua pagina social ha annunciato il suo ritorno al Teatro Carlo Gesualdo. Una stagione straordinaria, si legge sulla locandina pubblicata dal sindaco di Avellino, una stagione che dovrà essere di rilancio assoluto ed anche per questo il grande attivismo nella ricerca di eventi di qualità capaci di attirare i favori del pubblico. Agli spettacoli annunciati da festa e al concerto di Baioni dovrebbero aggiungersi altri importanti appuntamenti e cresce la curiosità.